Dito a bottigliate sassate una pattuglia della polizia municipale facendo addirittura cadere a terra gli agenti in moto. Adesso l'uomo, una trentenne gambiano, è stato rintracciato e per lui sono schiattate le manette, come disposto dal GIP del Tribunale di Arezzo. Era la notte del 9 luglio scorso, quando durante un normale controllo in zona Campo di Marte, dietro la stazione di Arezzo, gli agenti erano stati aggrediti dall'uomo che, sotto l'effetto dell'alcol, si era rifiutato di farsi identificare. Ha tirato nei confronti del primo vigile una bottiglia di birra in vetro e l'ha colpito alla schiena. Successivamente, dopo che è stato rincorso, ha tirato nei confronti dell'autovettura di servizio, al cui interno c'erano i vigili, un sasso che ha mandato in frontumi il vetro e alcune schegge hanno colpito il vigile urbano. Quindi, in entrambe le circostanze, l'aggressione poteva avere conseguenze più gravi. Feriti i due vigili, l'aggressore si era dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce all'interno del parco del Pionta. Immediatamente sono scattate le ricerche anche da parte dell'Ufficio Prevenzione Generale, nell'area circostante del Pionta e del Campo di Marte. L'attività investigativa della squadra mobile, invece, si è concentrata sulle telecamere. Hanno ripreso proprio il momento dell'aggressione, ci hanno consentito anche di risalire alla fisionomia, al fisico dell'estracomunitario responsabile dell'aggressione. E quindi ci hanno consentito di risalire la sua identità, anche perché è un soggetto che ha diversi precedenti, quindi già noto in questa provincia, destinatario comunque anche di un foglio di via del questore. E una volta risalita l'identità abbiamo quindi poi fatto vedere la foto alle due vigili urbani che hanno riconosciuto l'aggressore. Il trentenne adesso dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e violazione del foglio di via. Attualmente si trova nel carcere a retino di San Benedetto. Le motivazioni sono sia nella gravità della condotta, sia per i precedenti specifici, ma anche per il fatto che comunque è un soggetto senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, quindi sicuramente caratterizzato da un profilo di pericolo di fuga.